Buonasera cari amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Vado subito a salutare e presentare l'ospite di questa puntata. È tornato a trovarci Massimo Battisti, vice direttore di Confagricoltura Mantua. Buonasera Massimo, bentrovato. Buonasera Andrea. Allora parliamo in questa puntata di PAC, un argomento che insomma abbiamo trattato spesso in queste settimane, in questi mesi e quest'oggi lo trattiamo come dire per un aspetto non troppo positivo. Parliamo infatti di risorse in meno, un 30% di risorse in meno dovute alle nuove norme di questa riforma che insomma dobbiamo dire continua a far discutere. Sì, effettivamente è così. Abbiamo preso come occasione un bilancio di quelle che sono state le erogazioni a parte di Regione Lombardia per le misure della PAC e il PSR dell'anno 2023 che si sono concluse da poco. Fortunatamente l'organismo pagatore regionale è riuscito a pagare nei tempi la quasi totalità delle domande, è rimasto fuori pochissimo che verrà pagato in seguito, ma la nota dolente è rappresentata da quello che dicevi tu, cioè che rispetto alla situazione pre-riforma a Mantua arriva il 30% in meno di risorse. E questo è un problema perché a fronte di circa 90 milioni di euro che arrivavano annualmente nella nostra provincia e che servono queste somme per alimentare anche gli investimenti nelle imprese agricole, nel 2023 ne sono arrivati poco più che 62 milioni. Quindi insomma un ammanco che purtroppo abbiamo previsto a suo tempo come confricoltura e questa riforma l'avevamo criticata anche per questo motivo, e quindi meno risorse, più vincoli di tipo anche ambientale che sono stati risolti parzialmente con le ultime correttive che sono state applicate a questa riforma, ma rimane comunque un giudizio negativo su questa PAC e devo dire non perché vogliamo porci su un livello superiore ad altri, ma l'avevamo previsto da subito, l'avevamo detto da subito, contrariamente ad altri che invece dipingevano questa riforma come una grande occasione per gli agricoltori. Assolutamente, leggo anche insomma il riconoscimento dell'impegno che sta mettendo Regione Lombardia, ma mi viene da dire purtroppo non basta vista la situazione generale. Esattamente, ha fatto quello che poteva, ovviamente quello che non c'è non può sopperire e quindi rimane questo dato di fondo. Perfetto, grazie a Massimo Battisti che ritroveremo anche la settimana prossima, grazie a voi che ci avete seguito e appuntamento a fra sette giorni. Grazie a tutti.